Un'auto a fuoco completamente distrutta, un'altra danneggiata, vicino una bottiglia con liquido infiammabile, accendini e fiammiferi. Ma non è un caso come altri, perché le vetture sono quelle di Susanna Schlein, primo consigliere dell'ambasciata italiana in Grecia, e sono andate a fuoco proprio sotto la sua abitazione, in un quartiere residenziale di Atene. Sarebbe stata lei stessa, attorno alle 4 di notte, ad accorgersi del tentativo di appiccare il fuoco alla seconda auto, svegliata dal rumore della prima già in fiamme. Per terra una Molotov con la miccia in parte consumata. Di attentato parla il ministro degli esteri Tajani, condannando il gesto. L'ho chiamata per esprimere la mia solidarietà, twitta. Oggi pomeriggio il titolare della farnesina sarà ad Atene per incontrare il primo ministro Mitsotakis e visiterà l'ambasciata. Secondo Tajani, Susanna Schlein, sorella dell'esponente del PD Ellie, è viva per miracolo, perché la bottiglia incendiaria scoperta sotto la seconda auto si trova accanto all'impianto del gas, sotto la camera da letto della famiglia. Indaga la polizia greca insieme ai servizi di sicurezza. Il ministro greco degli interni, che questa mattina ha incontrato Piantedosi al Viminale, parla di elementi che indicano la matrice anarchica, anche per analogie con casi precedenti. Nelle scorse settimane poi ad Atene erano comparse scritte sulle murra dell'ambasciata in sostegno allo sciopero della fame dell'italiano Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis. Il ministro degli interni ellenico ha assicurato un rafforzamento già in atto delle sedi diplomatiche italiane.